Ciao ragazzi io sono DeasyBreak e in questo prossimo video solo per far dirvi che è uscita l'applicazione ufficiale del mio canale Cioè la DeasyBreak App Ok quindi scaricate via Ok ragazzi passiamo all'installazione e come si scarica e come si installa e come e come e come Perfetto Una volta installata e scaricata l'applicazione vi uscirà qua in alto cioè il logo del mio canale con quella faccia veramente strana Basta che voi ci clicchiate e vi uscirà un menu hotelina dove ci saranno tutti i miei video In poche parole da qui potrete cliccare sul video e vi uscirà il video Voi potete vederlo, commentarlo, condividerlo e fare moltissime altre cose E potrete anche in automatico condividerlo su Facebook e Twitter Basta un clic da qui e da qui E cercare anche altri video tipo moto e vi darò i video delle moto E ogni volta che io caricherò un video anche se non siete logati su Youtube vi uscirà una notifica con un 1 Basta che ci clicchiate e andate a vedervi il video E se non volete vedere il video basta che ci clicchiate e clicchiate di nuovo fuori E questo non va bene ragazzi Comunque per scaricare l'applicazione basta andare sul link che vi metterò qua sotto in descrizione Troverete il subbox del mio canale e anche su Facebook e su Twitter E magari anche su Twitter Perfetto Andare qua sotto nel tasto verde che lo vede per su mia nonna senza occhiali Basta cliccarci e vi uscirà questa finestella Youtube Channel Ok qualcuno ha già messo un bel like cioè 5 stelle Perfetto Fare aggiungi E vi scaricarà una cosa qui che pesa veramente pochissimo E che finirà qua Nella stazione di Youtube Channel è stata Aggiunta a Google Chrome e quindi avrete l'applicazione installata Quindi da Disybreak è tutto Ciao alla prossima e mi raccomando scaricate l'applicazione Commentate il video qua sotto e iscrivetevi Da Disybreak è tutto Ciao alla prossima